Poi oggi è un giorno importante, arriva il rinnovo con questi colori, le chiedo se ci racconta un po' le sensazioni di questo momento Le sensazioni sono chiaramente ottime perché sancisce comunque una fiducia reciproca che si rinnova perché comunque ci allinea ancora sulle stesse ambizioni, sullo stesso percorso e la voglia di crescere e di portare sempre più in alto questi colori È un percorso che è iniziato un anno e mezzo fa, fatto di tante tappe importanti e formative sotto diversi punti di vista Le chiedo se ci sono momenti o situazioni particolari che le sono rimaste più impresse in testa Io cerco di vivere sempre ogni momento con lo stesso entusiasmo, tuffandomi nella situazione quindi sarei banale se dicessi che i ricordi sono quelli delle vittorie o che ci hanno visto trionfare in alcune occasioni ma la mia memoria va anche in quei momenti di difficoltà e comunque sono tutte situazioni che ci hanno messo alla prova costantemente e che in qualche modo ci hanno aiutato a migliorarci Dal suo rivo all'Inter la squadra è cresciuta moltissimo sia dal punto di vista tecnico ma soprattutto dal punto di vista mentale Si aspettava di vedere assimilate in così poco tempo le sue idee di calcio dalle ragazze? Io sin dal primo giorno in ritiro da parte dei ragazzi ho sempre trovato la massima disponibilità la voglia comunque di guardare avanti e quindi anche di mettersi in gioco di superare anche i propri limiti cercando di elevarsi a un livello di calcio superiore la strada da percorrere naturalmente è ancora lunga però il percorso intrapreso è quello giusto e con la loro disponibilità e con il nostro impegno come staff cerchiamo insomma di renderlo ancora più avvincente Lei è sempre molto attenta alla crescita delle giovani calciatrici mi vengono in mente gli esordi di Calegari, di Dragoni, l'utilizzo continuativo di Robustelini solo per fare alcuni esempi Quanto è soddisfacente vedere crescere giorno dopo giorno queste ragazze? Immaginiamo che per una guida tecnica sia stimolante e impegnativo allo stesso modo Intanto noi ereditiamo comunque queste ragazze dal settore giovanile e quindi il loro forte impulso nel dare continuità di rinnovamento a queste ragazze che indubbiamente si trovano poi catapultate in prima squadra mostrando subito comunque delle caratteristiche tecniche, psicologiche, fisiche interessanti quindi il grande merito è loro, noi abbiamo il compito di accompagnarle nel loro percorso è impegnativo, è soddisfacente ma ancora di più insomma quando loro riescono a esprimere il proprio talento nel migliore dei modi come stanno facendo Parliamo un po' di campo, in questa stagione l'Inter è partita molto bene tenendo il ritmo delle squadre di vertice in un campionato che ha alzato notevolmente il livello complice anche nuovo formato È soddisfatta di quanto è stato fatto sino adesso e dove si può ancora migliorare? Indubbiamente abbiamo fatto una partenza in questo campionato importante dove possiamo migliorare sotto tanti aspetti entrare dentro le nostre difficoltà, le nostre situazioni in cui non sempre riusciamo ad esprimere il calcio che vogliamo e sono quei momenti che devono farci crescere ancora di più e quindi il nostro miglioramento deve essere la continuità di ciò che mettiamo in campo sia in termini di risultato ma anche di prestazione Coach, grazie, complimenti e buon proseguimento Grazie a tutti Grazie a tutti